salve a tutti ragazzi bentornati sul canale di quel taleale eccoci qui di nuovo con gran turismo 6 riprendiamo da dove ci siamo lasciati allora proseguiamo con l'internazionale b e dai facciamoci quello dei kart facciamoci quello dei kart che i kart sono estremamente sportiveggianti campionato gt tre gare sono sì sì va bene va bene ce l'abbiamo sì mi sa di sì che me l'ero comprato poi esatto eccolo qui ah no è quello che ci hanno regalato red bull vabbè va mi raccomando sportiveggianti con questo se non sbaglio quasi andava di freno a mano vai proseguiamo così la nostra carriera tappa per tappa come detto questo lo sto registrando di seguito all'altro perché quando ho un po di tempo ne registro qualcuno mamma mia sta vista mi sta un po sulle bolse queste cose quei kart che bisogna usare dei freni posteriori tra l'altro mai avvisati eh ci avvisate sa proviamo va proviamo vai vai abbomba abbomba cos'è attenzione prima staccata diga lasci fare buon uomo troppo caos scusi lei con quella colore imbarazzante risposti un attimo vai vai nostro kart color canarino attenzione estrema difficoltà su questa pista l'interno frenata appoggio un attimo che fa tampona diga attenzione oh che cazzo fa sto andando sul pubblico scivare allora attenzione attenzione come pericolosissima sì perché dovendo utilizzare il pollice come freno cosa estremamente difficile dai dai siamo quarti sono sei giri attenzione ci prova all'interno il curvone il curvone pericolosissimo questo è più a curva più a curva attenzione ci prova scia scia e staccatona ok ok dica lasci fare non tu orri non tu orri dov'è schifo dietro sì ok attenzione perché qua ci si rigira un po troppo facilmente non si può mai stare tranquilli con sti sti trabicoli eh che te lo dica fa porca mignotta vai 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 ok ok chiamo di ma che cazzo fai così in autonomia decide di suicidarsi fa remiamo contro dobbiamo delle serie di difficoltà con le carte che sono abbastanza ingestibili ok se vuoi anche buttare fuori pista ditelo che prendo provvedimento tacci vostra vai vai così così ci piace ci piace staccato uno staccato uno si si va bene va bene curvone curvone piano chiamo di non fare cagate ok ok questa pista è abbastanza vabbè che come detto sono i kart più che altro che sono pericolosissimi perché si girano in un attimo certo anche la nostra guida un po' leggermente aggressiva ma leggermente se non aiuta però ci si prova ecco le curve è così quando devo frenare un po' complicatos vai 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 ultimo giro con calma fammo cazzate che questo è un campionato a tre gare quindi ok ok la prima è andata la prima è andata questa è una pista difficile abbastanza squisciosa con il nostro kart color canarino vai ok vediamo la prossima vediamo la prossima soldoni 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 servono sempre che poi li investiamo questo kartodromo molto bello a vedersi molto meno a guidarsi vai vai dov'è che ci sbarcano adesso a silverstone silverstone mini come com'è che si chiama credo ci facciano fare un giro di silverstone perché sennò ci facciamo sei anni di giri vai gara 2 gara 2 siamo in 12 ok si questo era lo stesso tracciato che abbiamo fatto se non sbaglio con con la cosa red bull con la sfida red bull vai voglio comunque il clacson io il clacson lo voglio eh prima o poi me lo dovete dare esigo il clacson attenzione attenzione panico eh vabbè no siete dei figli di troia in amicizia venga vaffanculo va noi lo facciamo in amicizia cioè non è che tamponiamo in modo da buttarli fuori scia scia metti scia ma che cazzo è perché io c'ho quello farlocco dica perché quello fucsia va più veloce cioè tutti vanno più veloci ma che vi rendete per il culo attenzione ci buttiamo all'interno all'interno mamma mia sul cordolo sul cordolo non prendiamo l'erba perché sennò famo notte cordolino un po' d'erba vabbè sti cazzo eh noi nel misto andiamo forte nel misto rettilinei quello farlocco lasci fare porca puttana ma che fa tamponano cos'è un vizio c'ho scritto tamponate dietro attenti al bambino io c'ho scritto tamponate cazzo è invece di bimbo a bordo c'abbiamo degli insulti magari e questi si incazzano lascia a fare nel misto non siete boni è staccatona poi cambieremo anche tuta eh c'è quella di Senna di Ayrton Senna compreremo qua costa 500.000 crediti però la compreremo tanto che ci frega sia sia a giovane che fai? si sposta lei? siamo compagni di squadra abbiamo tutti e due quello verde eeeh giallo canarino mamma mia mamma mia attenzione siamo quarti siamo quarti oh dica non ci distraiamo perchè ci andiamo all'aceto vabbè lì ma che fa? ma che fa? ma che te fre- ma faffa culo attenzione c'è il pilota ufficiale pilota ufficiale davanti a noi tra poco sarà dietro a noi perchè vediamo vediamo siamo alla pari eh nessuno sta in scia nessuno sta in scia siamo primi siamo primi fregniamo se no ultimo giro ultimo giro attenzione nel misto ci provo cazzo andiamo comunque i kart sono sono fighi sono fighi a parte come hai detto che c'è qualche difficoltà nel mantenerli in pista quando cioè quando si inchiodano è finita ti rigiri in un attimo eh ma noi siamo cazzuti cattivi un po' di cordolo lo prendiamo sempre un pochino anche qui che un po' d'arco non ci frega anche qui via via nel misto nel misto attenzione cazzo andiamo chiudate a panico vai vai la sportivigianza anche sul kart salve perfetto vai andiamo all'ultima gara vai 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 abbiamo un campionato kart da vincere speriamo facciamo ste figure di merda e poi magari c'è anche la lucetta questo 125 quindi anche notturna se vogliamo possiamo anche fare il nurburgrini 24 ore con questo eh faremo un figurone ci aspettano che 24 ore un giro facciamo probabilmente beh sarebbe male come idea certo forse un po' troppo su e giù saliscendi questo un po' bassino quindi moriremo anche perchè i dossi sono alti tipo 2 metri sul kart va bene anche questo è abbastanza difficilotta come pista ma tutti i kartodromi sono un po' difficilotti perchè appunto sono fatti per farti rigirare cioè non sono fatti per i kart sono fatti per i kart che si devono rigirare ma noi non ce ne frega niente perchè noi buttiamo il cuore oltre l'ostacolo porca puttana magari anche oltre il dosso dica cioè dai un kartodromo un po' i fasti i dossi cazzo certo lo so che in teoria non dovresti prendere i cordoli ma la sportivegianza scusa eh con i kart noi prendiamo tutto dossi erba cordoli eh pure lui l'ha preso eh ma noi lo prendiamo meglio eh ma che ne sa che ne sa giovane ma che sei un compagno di squadra ah ecco perchè ha piato il cordolo pure lui eh cioè lui vuole far vedere che è compagno di squadra allora anche lui è in grado di prendere i cordoli ma che è noi abbiamo seguito dei corsi per prendere dei cordoli c'era il corso di taglio e cucito noi abbiamo scelto quello per prendere i cordoli erano nelle stanze affini vabbè forse è meglio che non fiamo cazzate perchè se no ci stiamo qua parcheggiamo secondo me su qualcuno del pubblico gli acciacchiamo la rotola è meglio cerchiamo di prendere la pista di tua e dio cristian e la retromarcia quale cazzo è porca la puttana ma vaffanculo va porca la troia di Eva schifosa è molto baldracca ma estremamente baldracca era sola eppure a Damo non gli è bastato cazzo andiamo parca traia 16-19 secondi e quando cazzo tra l'altro noi abbiamo fatto due gare i primi però è a serio rischio perchè facciamo sempre delle cazzate che poi lo rifà oh ma che state fuori no no qua c'è stato qualche sabotaggio signori ma che cazzo è attenzione attenzione no no problemi in campo problemi in campo meglio in pista si abbiamo ancora perso vabbè sti cazzo andata così andata così siamo 20 secondi indietro vediamo quanto riusciamo a recuperare adesso una sfida a tempo il resto non conta a parte la mamma di chi ha fatto questa pista vabbè sti cazzo eh no qua come ho detto questa pista è un po' la dobbiamo prendere bene noi abbiamo fatto troppi corde i corde non vanno presi quindi poi ci freghiamo tutta la gara a parte che ci siamo rigirati mi sa che non l'abbiamo preso il corde quando ci siamo rigirati no lascio a fare vabbè questa poi me la rifarò io con comodo con calma fra un po' di tempo quando ci avrò voglia l'importante è vincere il campionato non vinci vabbè che tanto lo vinci o non lo vinci sti cazzi le gare comunque me le rifaccio tutte perché o primo o primo cioè non esiste il secondo il secondo è il primo degli ultimi quindi stelline io le voglio tutte ma che stiamo qua a perdere tempo biga buon uomo lasci fare togli dei maroni vabbè qualche secondo l'abbiamo guadagnato ultimo giro vabbè ci abbiamo provato ci abbiamo provato volevo guadagnare giusto qualche punticino per vedere se riuscivamo a far qualcosa in più per il campionato perché in realtà avendo perso tutte queste posizioni non saprei se il vantaggio che avevamo possa bastare prendiamo qualche punto da ottavi no? almeno vabbè portacci vostra va bastardi allora vediamo un po' vediamo un po' questo campionato come si è messo attenzione brividi al finale le stelle sti cazzi poi me la rifaccio ma vaffanculo va vabbè mi rifarò la no sto cazzo mi devo rifare tutto che due palle è solo per questo perché adesso me lo rifà tutto non me lo rifarò mai sti cazzi se ci avrò tempo quando avrò finito tutto magari ritornerò indietro a rifare tutte queste cagatelle di gare vabbè comunque noi ragazzi ci vediamo con il prossimo appuntamento con il nostro Gran Turismo 7 vi ringrazio per aver seguito questo video vi raccomando di iscrivervi anche alla pagina facebook e un saluto a tutti da quel taliale